Dopo il breve arresto al suo rientro da Venezia, il regista libanese Ziad Dueiri ha partecipato alla prima Beirut dell'insulto, il suo ultimo film, a cui è andata la Coppa Volpi come miglior attore protagonista per il palestinese Kamel El-Basha. Quest'ultimo ha dichiarato. È stata una grande sorpresa, non mi aspettavo di vincere questo premio, sono rimasto davvero sorpreso. Il regista Dueiri è stato rilasciato lunedì dopo essere stato ascoltato da un tribunale militare in Libano perché è accusato di avere viaggiato in Israele per girare alcune scene di un suo precedente film, trasferta vietata ai cittadini libanesi dalle leggi libanesi. Sulla prima si è limitato a dire. L'insulto racconta la storia di due persone normali, due persone della classe media che hanno una lite banale su un canale e una tubatura. Cominciano a insultarsi e la cosa si complica prima di arrivare in tribunale. L'attrice libanese Rita Hayek. La mia parte è quella di una donna di nome Kirin, moglie di Tony, uno degli attivisti e combattenti del partito delle forze libanesi. Kirin è una donna incinta che sostiene il marito e lei è la voce della ragione nella sua vita. Una fonte di ottimismo per il marito, il quale si sente male davanti alla guerra. Grazie. 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 Grazie a tutti.